Buona domenica, buona domenica amici del canale YouTube, ben ritrovati, un caro saluto, un caro abbraccio a tutti voi iscritti al canale, continuate così, il canale sta crescendo naturalmente sempre grazie al vostro sostegno. Parliamo di mercato perché oggi potrebbe essere l'ultimo weekend senza il nuovo acquisto, mettiamola giù così, domani inizia una settimana importantissima dove molto probabilmente il Milan annuncerà il suo primo acquisto e meno male perché comunque entriamo nella settimana che va dal 15 di luglio, domani parte la settimana che va dal 15 di luglio a quella del 21, quindi non è che il Milan abbia fatto un mercato rapido, tutt'altro, ci aspettavamo infatti un giugno diverso ragazzi, è inutile girarci intorno con almeno un paio di acquisti, così non è stato, però meglio tardi che mai, quindi da domani si parte forte. Volevo però iniziare questo video con un altro nome perché nella giornata di ieri il Milan ha perfezionato, diciamo così, l'intesa di massima con gli agenti di Pavlovich. Questo è un giocatore che secondo me può dare tanto alla difesa del Milan, perché? Perché parliamo di un ragazzo di 23 anni, alto 1,94 m, quindi un giocatore che sostanzialmente lì in difesa accanto a Tomori può fare la differenza, giocatore che può dare il suo contributo anche dal punto di vista atletico, fisico, caratteriale, perché ce lo descrivono come, passatemi il termine, il classico difensore cattivo, quindi che va dal sodo e non invece si fa prendere anche dal momento della partita ed è quello che serve un po' al Milan, anche un po' più di cattiveria agonistica all'interno della squadra, del gruppo squadra e della difesa. Quindi Pavlovich ieri si è perfezionato l'intesa di massima con il giocatore e con il suo procuratore, il Milan pagherà anche delle commissioni perché fanno parte del gioco, non è che ora il Milan non paga più le commissioni, le paga, ma vorrebbe pagarle con un prezzo sicuramente più basso e più adeguato al valore del cartellino del giocatore. Sul caso Zierkze è stato un caso a parte. Oltre le commissioni e oltre l'ingaggio al giocatore il contratto dovrebbe essere di circa 5 anni, 5 stagioni, ora però serve trovare l'accordo col club ed è lì che il Milan fa un po' fatica perché i rossoneri vorrebbero pagare un prezzo più basso rispetto alla richiesta del Salzburg. Il Salzburgo chiede attorno ai 25 milioni di euro, il Milan vorrebbe spendere massimo una ventina di milioni di euro, quindi credo che ci sia una differenza, è una forbice di 5-6 milioni e si sta lavorando per limarla. Il fatto è che il Milan vuole, come spesso accade in questo mercato, fare leva sulla volontà del giocatore, cioè il giocatore con il suo procuratore vanno in sede ed insistono per la cessione al Milan. Vanno in sede al Salzburgo, ne parlano col club, dicono abbiamo ricevuto questa offerta importante da parte del Milan, è un treno che non vogliamo perdere, vogliamo provare a fare un salto nel club rosso-nero, liberateci in qualche modo. E' un po' questo il senso, è molto banale, ma che Pavlovich e il suo procuratore dicono al Salzburgo. Il problema è che il Salzburgo però da parte sua fa un prezzo, non ha necessità di vendere, perché è un club comunque della sfera Red Bull, quindi abbastanza ricco, non ha bisogno di fare sconti, e quindi bisogna capire entro quanto tempo si riesce a strappare il sì del Salzburgo. Magari ci vorrà una settimana, magari ci vorrà più tempo, stiamo qui a vedere insomma entro quanto il Milan proverà e otterrà il sì del Salzburgo. Però col giocatore c'è l'accordo e sono stati limati anche alcuni dettagli per quanto riguarda il contratto. Parliamo anche di un altro argomento, cioè quello dell'attaccante Fulkrug o Ebram. Sono questi due nomi che sta valutando il Milan come terzo attaccante da affiancare a Jovic e Morata. Morata magari ne parliamo nel prossimo video, ma da domani insomma ultimi passaggi per quanto riguarda il suo addio all'atletico e poi accetterà il Milan, o meglio chiuderà col Milan in maniera definitiva. Il Milan però non vuole fermarsi a Morata, vuole prendere anche un terzo attaccante come aveva anche un po' annunciato Zlatan Ibrahimovic in conferenza stampa. Ebram reduce da una stagione difficile a causa dell'infortunio al ginocchio. La Roma addirittura lo valuta 25-30 milioni di euro, mi sembra una valutazione molto elevata, forse eccessiva per un giocatore che da un paio d'anni non sta rendendo tanto. Due anni fa non aveva segnato molto, al suo primo anno la Roma invece aveva fatto molto bene, l'anno scorso invece lo ha praticamente saltato quasi tutto a causa del problema al ginocchio. Il Milan dice, ok, l'idea Ebram ci piace, ma o in prestito o con una contropartita. La contropartita potrebbe essere Saleme Kers. Perché Saleme Kers? Perché è un giocatore che comunque può dare equilibrio alla squadra giallorossa, alla squadra di Daniele De Rossi, quindi Saleme Kers può essere l'uomo giusto per convincere la Roma. Giocatore che viene valutato tra i 12-13 milioni di euro, quindi sostanzialmente il Milan darebbe alla Roma Saleme Kers più un conguaglio economico per prendere Ebram. Questa è una delle idee. Ma attenzione, a noi ci è stato detto che il Milan non sta lavorando solamente su un tavolo, ma su più tavoli. Sta lavorando anche su altri nomi. L'altro nome è quello di Fulkrug, attaccante, 31 anni, del Borussia Dortmund. Giocatore che ha un contratto fino al 2026, però l'arrivo di Girassi potrebbe un attimo spostare gli equilibri. Lì davanti non è detto che il Milan riesca a prenderlo, anche perché deve innanzitutto ottenere l'ok del Borussia Dortmund e non è detto che arrivi. Io penso che sarà complicato per il Milan mettere le mani su Fulkrug, però è anche vero che il Milan ci sta provando, sta avendo dei contatti col suo procuratore. E quando è così, insomma, tutto può accadere, tutto può succedere. Ci dicono anche che il Milan non stia valutando solamente questi due giocatori. Ci sono ancora dei nomi che la dirigenza, Ibrahimovic, Moncada, Furlani ed Ottavio stanno vagliando. E' da capire se poi si riuscirà a fare questo investimento per la terza punta. Io credo di sì, sostanzialmente il Milan potrebbe presentarsi ai nastri di partenza con Morata, Jovic e un altro attaccante. Da capire se quest'altro attaccante è Fulkrug, è Ebram o addirittura un nome che fino ad ora non è stato ancora fatto, perché il Milan vuole tenerlo nascosto. Però l'idea è prendere una terza punta e cercare quindi di regalare a Fonseca un attacco variegato con caratteristiche diverse, con giocatori che possono essere sfruttati in modo diverso sia durante la stessa partita, ma in generale anche in base all'avversario, in base alla tattica dell'avversario che si presenta di fronte giornata dopo giornata. Quindi vediamo, speriamo che il mercato del Milan possa partire con forza da domani, perché fino ad ora è stato abbastanza lento e deludente, ma da domani, dal 15 di luglio, ecco. Speriamo che sia una settimana foriera di annunci, diciamo così. Un abbraccio a tutti, ciao.